Invade tutti i settori con prodotti finiti, componentistica, stampi. Competitivi perché precisi ed affidabili, leader nel mercato globale. Attenzione per i dettagli, efficienza e rispetto per l'ambiente. Multinazionali degli elettrodomestici, della tecnologia per il riscaldamento e la climatizzazione. Maestri delle macchine per la lavorazione del legno, dei metalli, del vetro, degli impianti oleari e delle cappe aspiranti. Tecnologia che non risparmia per ambire al meglio nell'edilizia, nell'agroindustria, negli articoli in plastica, nell'i-tech. Un settore di riferimento in cui creatività e sicurezza attraversano consapevoli anche le armi sportive, gli elicotteri, le motociclette e gli infissi. Le Marche. Un ingranaggio speciale.